Berry Plant è felice di presentarvi questa casa meravigliosa. Si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile. Comprende una stupenda cucina funzionale che farà piacere ai cuochi della famiglia. Ampie camere da letto che vi farà sentire comodi e rilassati. Questa proprietà soddisferà ogni vostra esigenza. Prenotate oggi una visita!